Marco Catalani, sono responsabile di tutte le attività operative della Resnova, società di consulenza e formazione. Ci occupiamo in particolare di consulenza di direzione di organizzazione aziendale. Ci occupiamo di tutti gli aspetti relativi alla compianza aziendale, in particolare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Facciamo formazione a tutti i livelli, sia manageriali che per lavoratori. Attiviamo dei percorsi formativi finanziati oppure attiviamo corsi di formazione a catalogo. Abbiamo cercato con Tueppi un modo per organizzare in maniera migliore le nostre attività, fare in qualche modo più ordine rispetto a quelli che sono i compiti e gli incarichi di ogni persona, avere meno impegni da un punto di vista personale per organizzare poi meglio il lavoro. Abbiamo trovato in realtà uno strumento proattivo, soprattutto per quanto mi riguarda perché mi occupo spesso di gestire e di assegnare incarichi ad altre persone. In questo modo riesco ad ottenere un feedback dai miei collaboratori e riesco a far sì che essi siano proattivi anche nei miei confronti. Quindi con questo sistema abbiamo trovato il giusto equilibrio in una collaborazione reale che viene anche dal consulente e non è soltanto imposta dall'alto.